eccoci qua per la terza gara tiro con l'arco il primo a tirare sarà demo per fortuna abbiamo un contatore automatico comunque questo è zero hai colpito qualcosa da dietro ecco abbiamo ricordiamo il punteggio tanto poi lo calcolo in automatico comunque il bianco è un punto giusto il giallo è 10 il rosso 50 se becchiamo il tastino e parte il il razzo è 100 punti adesso è venuto a controllare la mamma se variamo ma ci prepariamo a vedere quanto è il punteggio finale di daemon attenzione ultimo tiro 50 punti 290 punti complimenti daemon per i suoi 290 punti prendiamo la mani bravissimo adesso ci daremo il cambio abbiamo optato per questa opzione di dividere lo schermo solo in due uno andrà a controllare vicino e chi tira invece si prepara daemon più vicino per favore non troppo se non ti colpisco ecco colpito non non conta come punteggio daemon no no un punto molto male me la sono giocata proprio male 10 punti 50 punti e ho preso anch'io il centro probabilmente fa un po contatto quel tasto lì perché non era proprio centrato questo tiro però è andata fuori le ho tirate fuori le ho tirate fuori le ho tirate fuori le ultime due punteggio 191 molto scarso ho fatto 100 punti meno di te e adesso vediamo la mamma cosa combina sicuramente sicuramente farà più schifo la mamma fa un tiro notturno vediamo che cosa succede pronti? ok si è scaldata 0 alza il tiro mamma se me è basso no no un punto 10 punti 10 punti 10 punti per ora molto bassi questi punti eh si invece no anche questo anche questo mi sa che non è rosso no no è molto probabile che sia giallo ecco il centro comunque ha preso 100 punti attenzione che se adesso le imbrocca tutte questo può darsi bisogna vedere il contattore automatico cosa dice se è rosso o se è giallo questo è rosso questo è sicuramente rosso si quello è rosso questo mmm bisogna vedere ultimo tiro vediamo che cosa ci dice il contatore ah questo è 10 sarà il potenzio più alto di demon no 241 più basso quindi questa gara la vince demon vediamo il potenzio totale 221 davis 310 demon che supera gli altri simona 262 ci vediamo alla prossima gara ciao 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 Grazie a tutti.